Buonasera a tutti, mi chiamo Mariano Gioconti, questo è il mio collega Giovanni Miserotti, siamo qua per presentare il gruppo crowdfunding. La nostra iniziativa viene dal nostro lavoro finale di MBA, siamo due studenti che stanno finendo proprio MBA a Madrid, abbiamo un'idea di business e vorremmo utilizzare questo sottogruppo per studiare insieme a voi che cos'è il crowdsourcing e il crowdfunding. Il crowdsourcing è mettere insieme tutte le nostre esperienze professionali e personali, tutto il nostro knowledge, tutto quello che sappiamo fare bene per migliorare insieme un'idea che è già nata, c'è già, ma che vogliamo diventi super. Quindi attraverso il sito ci scambieremo delle idee, ognuno di voi potrà contribuire con il proprio knowledge, con le nostre coscienze e quindi struttureremo in una parte teorica che cos'è il crowdsourcing, come si fa, qual è il modo migliore per farlo e in una parte pratica applicandola alla nostra idea di business. Il secondo step sarà il crowdfunding che si parla sullo stesso principio, quindi in prima parte teorica ci scambieremo delle opinioni su come si fa il crowdfunding e poi le applicheremo al nostro progetto pilota di studenti MBA per vedere nella pratica concretamente quali possono essere i risultati di uno studio applicato alla realtà. Quindi se volete condividere con noi le vostre esperienze professionali in tutti i campi e personali, venite da noi, chiedeteci, siamo felici di rispondervi e di condividere insieme a voi questa avventura. Grazie.